Siamo sempre a Erbonne, questo paesino qua con il cimitero piccolissimo. Adesso siamo in una stradetta dove praticamente c'è un ponte. Questo ponte è un ponte in legno che separa l'Italia dalla Svizzera ed era un ponte dove i contrabandieri in guerra lo usavano per i loro contrabbandi. Di Elfi e Nanni niente. Vediamo se troviamo qualche contrabandiera. Scusate. Allora adesso vi comunico che adesso sono in Italia. Cammino, 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 cammino in questo ponte il legno che neanche voi lo immaginate. Secondo me crolla. Che posti però. Conducimento di legge del conoscimento. Zona doganale. Vi comunico che adesso sono in Svizzera. Io sono passato e non è successo niente. Poi fate un po' quello che volete. Sì poi basta, la strada qui non conviene. Se volete farlo perché lo volete fare, potete tornare indietro. Ok, dai. Ma vedete, arrivo. E adesso si torna indietro dalla Svizzera e torniamo in Italia. Allia.